Tafferulli ieri a Roma durante la manifestazione per chiedere al governo le riaperture da parte dei rappresentati del popolo delle partite IVA. Lei era presente, avrebbe dovuto anche parlare, non ha tenuto il discorso per protesta proprio contro queste violenze. Sì, ieri ero presente in piazza Montecitorio assieme alla coordinatrice nazionale della rete delle partite IVA, Marina Girola. Ci siamo voluti dissociare da questa protesta poiché abbiamo visto forme di violenza che assolutamente non portano a nessun tipo di soluzione e quindi ci siamo rifiutati di parlare in quel momento. C'è esasperazione, c'è stanchezza da parte dei commercianti, da parte di chi ha un'attività, sono mesi in cui si è incassato poco o niente. Che cosa chiedete al governo? Noi al governo chiediamo, almeno io come rappresentante dei giovani, chiediamo una programmazione e un progetto a lungo termine, cosa che fino adesso così non è stato. Ci sono state proposte soluzioni così eretiche prese all'ultimo momento. In realtà noi crediamo nel domani, anche perché il domani di cui tanto si parla forse è già arrivato. Noi giovani non ci vogliamo più sentire cornici di nessuno. Pensiamo che il popolo delle partite IVA sia il tessuto produttivo dell'Italia e in quanto tessuto produttivo noi crediamo nel domani e dobbiamo iniziare già a pensare a ciò.